Cambiamo di nuovo genere e il prossimo brano che andremo ad ascoltare è un brano che fu proposto nel 1888 dall'inglese Edward Hedda che volle dedicarlo alla sua fidanzata. All'inizio questo brano non è più un buon successo, ma tutto cambiò nel momento in cui fu retitolato Salud d'Amour, tanto da diventare rapidamente uno dei progetti più grandi di Hedda. A voi Salud d'Amour. 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 Salud d'Amour.